Salve a tutti, in questo video vediamo come superare l'ultima missione della serie Primo Soccorso su Help Wanted 2 Primo Soccorso Bimbo Sbucciato Per poterla avere, dato che è una missione glitchata, bisogna togliersi fisicamente la maschera di Vanni dal volto Allora, è come l'altro, solo che è più complesso perché ci sono delle procedure extra La peggiore è quella con la sega È diventata il mio incubo Allora Cominciamo subito con il solito Scandar Niente è cambiato comunque, le cose sono le stesse Quindi attenzione a non farlo urlare E quando la tv suona, quando c'è una pubblicità, col telecomando Spegnetela, ecco, devo riavviare la missione perché mi è caduto il telecomando per terra e non si è resettato Ok, teniamolo qui Che a volte se cade non ritorna lì, non lo so perché Ok, quindi Apriamo tutto, allora Ovviamente la boccetta corretta la sappiamo già qual è se avete visto le altre missioni Cominciamo dalla gamba, quindi scannerizziamo la gamba Allora, cosa dobbiamo fare? La missione che è veramente tremenda Allora, dobbiamo dall'ultimo cassetto prendere la sega Con una mano prendiamo la maschera e cominciamo a tagliare la gamba Un po', e poi subito maschera e guardiamo da dove arriva l'animatronic Di nuovo ripetiamo, fino a che non riusciamo a tagliarla ragazzi, così Non ci possiamo stare troppo però, quindi è quello il problema Non so se sbaglio qualcosa io, se posso resistere un po' di più Però va fatto un pezzetto alla volta in pratica, fino a che non riuscite Possibilmente tagliando lungo il tratteggio a completarla Guardate quante volte E non cade, eh? Non cade Ricordatevi di fissare gli animatronic fino alla fine Se no ritornano, fino a che non vanno via Ecco c'era la tv Oh, oh, oh C'è mancato un pelissimo Riprendiamo la sega E non mollatela mai con il trigger Perché anche quella se cade male poi non si respawna E dovete riavviare la missione Ah, ce l'ho fatta, bene Allora, a questo punto La sega posiamola a modo Prendiamo la stampella Ok, dalla borsa E gliela mettiamo Oh Ok, allora poi Abbiamo un problema al cuore Questo è molto semplice Prendiamo questo Lo appoggiamo qui al petto Pulsante, poi maschera E occhio Agli animatronic Bene, ora Per la schiuma Della bocca Questa è l'unica boccetta utile Quella con scritto Rabid L'ultima Prendiamo la siringa Ok, rimettiamo qui se servisse Sa Ne dobbiamo E subito maschera Non dobbiamo farlo urlare Ecco, c'è anche uno spot Ok Bene, fatto Diamogli la caramella Missione completata Ora dalla prossima Come nella parte finale Dell'altro livello Dobbiamo stare attenti Anche alla tenda Di mezzo Ovvero Gli animatronics Potrebbero arrivare Anche da lì Ancora la missione Con la sega È una maledizione È una maledizione Di nuovo Niente Controllate bene Dove sta L'animatronic In mezzo C'è meno corsa Quindi occhio In mezzo avete meno possibilità Meno tempo Cioè Riproviamo Ci vuole pazienza Purtroppo Se si fa quella fretta Non ce la facciamo Ok Fatto 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 Stavolta Ci ho messo meno Stavolta Era caduta la maschera Ok Ok Il peggio è superato Allora vai Stampella Come nuovo Ok Poi abbiamo Un problema Al Spot Oh Mi stava per cadere Il telecomando Male Ok Allora Il braccio Quindi serve Questa Fascia Ok Gliela mettiamo qui E poi spillatrice Preparatevi perché qui urla Quasi sempre Via Maschera Ah Centrale Centrale era Bene Adesso Semplicemente Termometro in bocca E ci siamo Ok Eccolo qui In mezzo alla bocca Ah no Ancora c'è Allora Boccetta gialla Dobbiamo rovesciargliela Questa per la malaria Non sbagliate Ok Gli ho rovesciato anche il tappo Caramella Ora si strozzerà col termometro però Oh l'ultimo round L'ultimo round No Ancora Ancora Una sfiga tremenda Una sfiga tremenda E la facciamo sempre per prima Questa missione Io consiglio di farla per prima Perché è la più difficile Ok Giriamoci bene Ma non consiglio di metterlo verticale Consiglio orizzontale più o meno O in diagonale Via Io taglio lungo il tratteggio Però mi sembra quasi impossibile Farcela in un colpo solo Maschera Allora Vi potrebbe capitare Di dover segare anche la testa Nel caso bisogna estrargli la schedina SD E mettere quella nuova Tutto lì La procedura è la stessa Dovete segare Maschera Sempre uguale Ok Via ci siamo Ci siamo In questo caso non mi è capitata Ok Allora Stampella Boom Come nuovo Vediamo quest'occhio Bisogna Riposizionarglielo No Bisogna cambiargli l'occhio L'occhio proprio Allora Nella borsa Abbiamo Il bulbo oculare nuovo Eccolo lì Eh Spot Ah dal mezzo Dal mezzo saliva Oh Vedete Guardatelo bene Fino a che non è andato via Sennò ritorna Bulbo Dobbiamo staccare quello vecchio E rimetterglielo subito Però in un colpo solo Quindi staccate Mettete E poi Maschera Riproviamo Stacca Metti Maschera Oh Ce l'abbiamo fatta Infine Molto semplicemente Un braccio rotto Giram Giriamolo Eh Non serviva la maschera E mettiamogli il tutore Semplicissimamente Olè E ce l'abbiamo fatta ragazzi Abbiamo completato anche l'ultima missione difficile di questa serie Caramella E via Spero di essere stato utile Ci vediamo al prossimo video Your Fazbear First Aid Certification Grazie a tutti